ben trovati un video veloce veloce per soddisfare la richiesta di un'amica e andiamo a vedere come fare il cambio colore nella lavorazione a spirale nella lavorazione a spirale non andando a chiudere giri se facciamo il cambio colore nel modo classico nel senso che andiamo nel punto estraiamo il filo e chiudiamo con il nuovo colore lo scalino di cambio sarà visibile io faccio in questo modo vedete che io qui ho un marcatore questo mi va a marcare il primo punto di ogni giro per capire dove inizia e dove finisce il giro facciamo conto che noi dobbiamo fare il cambio colore e facciamo in questo modo io ho lavorato tutto il mio giro tolgo il marcatore vado nel punto in cui avevo posizionato il marcatore estraggo il filo e chiudo con un punto bassissimo vado nel punto successivo prendo il nuovo colore che voglio inserire faccio il mio nodino per fissarmi al lavoro estraggo vedete e chiudo con un punto bassissimo tiro bene i fili questo che devo sospendere lo porto dietro e ricomincio la lavorazione con il nuovo colore rientro nel punto in cui abbiamo fatto il cambio colore e vado a lavorare il primo punto del giro successivo rimetto il marcatore e questo è un altro consiglio che vi do nella lavorazione a spirale cercate di sfalsare gli aumenti non li fate uno sopra l'altro altrimenti non avrete una bella forma a cerchio ma il lavoro assumerà una forma esagonale ottagonale a seconda degli aumenti che voi andate a lavorare in genere la regola principale delle lavorazioni al cerchio è quella di riportare gli aumenti in ogni giro in base alle maglie iniziali io ho questa lavorazione l'ho iniziata con sei punti di base quindi in ogni giro io mi ritroverò a fare sei aumenti fino a raggiungere la larghezza del diametro che mi occorre quindi proseguo con la mia lavorazione del giro in base allo schema o alle istruzioni che sto seguendo arrivo a concludere qualche giro e poi vi faccio rivedere il cambio colore ho lavorato tutto il mio giro vedete sono quasi alla fine vado a lavorare gli ultimi due punti sempre rispettando gli aumenti dello schema che devo seguire o della lavorazione che devo fare ecco qui che siamo laddove abbiamo fatto il cambio colore e dove ho posizionato il marcatore a inizio giro tolgo il marcatore e comincio il giro successivo non dimenticate di mettere il marcatore sul primo punto altrimenti perdete il senso di inizio e di fine del giro essendo una lavorazione aspirale non avete il punto di chiusura quindi mi porto un pochino avanti con la lavorazione per farvi vedere che al cambio colore non rimane lo scalino mi sono portata un pochino avanti con la mia lavorazione e come potete vedere laddove abbiamo fatto il cambio di colore non abbiamo quel quello scalino molto evidente nella lavorazione a spirale ve lo faccio rivedere di nuovo dove io avevo posizionato il marcatore è l'inizio del giro tolgo il marcatore dal primo punto di inizio giro e vado a lavorare un punto bassissimo con il colore che devo sospendere vado nel punto seguente prendo il filo che devo sospendere lo porto sul dietro vedete che io con il verde non ho tagliato il filo ma lo riporto sul davanti e vado a lavorare un punto bassissimo direttamente con il nuovo colore stringo bene i fili vedete rientro nel punto in cui ho fatto il cambio colore e vado a lavorare il primo punto del giro successivo vado a rimettere il marcatore per non perdere l'inizio giro e continuo con la mia lavorazione semplicemente seguendo lo schema o le istruzioni che devo lavorare mi porto un pochettino avanti ancora faccio qualche giro vi faccio vedere il risultato finale ho lavorato ancora un poco di giri vedete che sono di nuovo a inizio giro vicino al marcatore vado a lavorare gli ultimi punti per farvi vedere la lavorazione finale il risultato finale se io dovessi chiudere il lavoro adesso vado a togliere il marcatore entro nel primo punto e lavoro un punto bassissimo ne lavoro un secondo e ne lavoro un terzo vedete che il giro si è pareggiato nel caso si va a tagliare il filo e la nostra lavorazione è terminata vedete che non sembra una lavorazione a spirale con giri aperti ma con il metodo che vi ho fatto vedere per il cambio filo non abbiamo l'antiestetico scalino che si viene a formare quando si va a fare il cambio colore classico lavorando l'ultimo punto con il nuovo filo da inserire una volta finita la vostra lavorazione andate a fissare tutti i fili spero che anche questa volta il tutorial sia stato utile se non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale lasciatemi un like condividete i video e io vi aspetto per i prossimi tutorial a presto